Come l'anno scorso cercheremo di mettere in evidenza delle belle storie di gioia, sacrificio, dolore e coraggio. Presentato a Firenze il premio giornalistico Estra per lo sport raccontare le buone notizie, con un convegno dal titolo lo sport responsabile, progetti, idee e comunicazione per uno sport davvero sociale. Si lancia un messaggio diverso e importante che contraddistingue questo rapporto speciale che è Estra con lo sport. Sentiamo forte la nostra responsabilità sociale di impresa e per noi lo sport è un veicolo straordinario per contribuire alla comunità dove insistiamo a livello industriale e commerciale. La sala d'arme di Palazzo Vecchio ha riunito in una tavola rotonda esperti provenienti dal mondo istituzionale, sociale, sportivo e manageriale. Tra i relatori Mario Cognini, presidente della Fiorentina, Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio e Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'istruzione. Il patto educativo su cui stiamo lavorando tra scuola, sport e famiglia è fondamentale e non possiamo niente senza gli attori principali in questo senso dello sport e senza anche qualcuno, e su questo ringrazio Estra per il lavoro che ha già fatto e che sta facendo, per sensibilizzare il mondo dello sport a ricordarsi che fa lo stesso mestiere, lo stesso lavoro magari della scuola, cioè è fase educativa. La mattina i ragazzi vanno a scuola, il pomeriggio quasi sempre i ragazzi praticano uno sport. Allora sono due facce della stessa medaglia e non dobbiamo dare messaggi diciamo in maniera distorta. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione. Grazie.